Lavoro ad Elettra da circa 17 anni e mi occupo di imaging con raggi X, raggi X di alta energia. Lavoro nell'ambito della microtomografia a raggi X e in particolare lavoro in due diversi laboratori. La linea di luce SIRMAP che utilizza appunto la luce sincrotrone per la microtomografia a raggi X e poi sono responsabile di un laboratorio di tomografia con sorgente convenzionale che si chiama Tomolab che abbiamo realizzato e disegnato qui ad Elettra ed è operazionale dal 2005 per gli utenti esterni. Ci occupiamo di un gran numero di applicazioni della microtomografia che vanno appunto dai biomateriali a materiali innovativi, la geologia, la paleontopologia e l'archeologia. Quindi diciamo le applicazioni sono molto varie e in particolare vogliamo fare uno studio delle caratteristiche interne dei campioni facendo quella che viene detta una istologia virtuale, cioè guardiamo il campione senza appunto danneggiarlo realmente ma andiamo a guardare con una risoluzione spaziale dell'ordine del millesimo di millimetro come è fatto al suo interno.